Porta la firma di Valerio Verra il gol che ha regalato la Serie A al Pescara, ma che gol, un gol pazzesco Valerio? Sì, un gol bello che è valso anche importante direi per come si era messa la partita, quindi contento io, contento tutta la squadra per questo traguardo raggiunto, adesso andiamo a festeggiare. Avevi visto il portiere fuori dai pali, ci hai provato, non hai visto più nulla, che è successo? Avevo visto il portiere fuori dai pali con la palla che aveva dato a Petkovic, poi ha sbagliato il passaggio e non ci ha pensato due volte, la prima cosa che ho fatto è calciare in porta. Fortunatamente è andata sotto al 7, quindi va bene. Subito dopo il gol hai fatto un gesto come dire che cosa ho fatto? Sì, ho detto sono pazzo mi sembra, neanche ricordo perché ne ho fatti solamente due, quindi è stata una cosa istintiva. E poi quella corsa sfrenata sotto la curva? Sì, era il minimo sotto i nostri tifosi che ci hanno accompagnato e sostenuto per tutta la partita, quindi grazie.